Siamo al porto di Ortona con Onofrio Gadaleta per raccogliere un appello, un appello che viene dai pescatori. Qual è l'appello? Noi il problema è i rifiuti in mare, la plastica che noi produciamo, che ci hanno tolto i bidoni dal porto e ci hanno montato dicendo che era per la raccolta che noi facciamo della plastica, ci hanno messo dei cassoni che alla fine era per la plastica raccolta in mare e quindi adesso hanno chiuso e noi non sappiamo dove andare a smaltire questa plastica. Ecco lei è un peschereccio e quindi quanta plastica si produce? Ne facciamo parecchio, quando peschiamo almeno facciamo un metro cubo di plastica. Tenga presente che le barche già iniziano a buttarla in mare perché non sappiamo dove portarla. Io avanti ieri sono stato a Ecolan, l'isola ecologica, mi hanno mandato indietro. Io non so dove andarla a buttare, a casa non la posso portare. Mi hanno detto che lì non si poteva buttare? Sì, questo. Non so cosa fare, è un problema grande. A me dispiace buttarla in acqua, sto chiedendo aiuto da qualcuno. Ovviamente il problema non è solo suo? No, no, ci siamo parecchie barche, saremo un 7-8 barche che facciamo questo mestiere, la pesca del pesce azzurro e produciamo tutta plastica. E prima com'era? Cosa c'era? Prima avevamo dei bidoni fino all'anno scorso sul porto e almeno ogni due giorni loro venivano, svuotavano e non avevamo questo problema. Però adesso ci hanno tolto i bidoni. Là dove hanno montato i cassoni non si può buttare più la plastica perché li hanno chiusi.